Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trebimeteo. La giornata di sabato vedrà ancora un po' di variabilità sulle regioni meridionali, dove andrà allontanandosi il vortice di bassa pressione, che rinnoverà tuttavia ancora qualche locale rovescio. Nel frattempo si avvicina una nuova perturbazione verso la Sardegna. Andiamo a vedere la situazione della copertura nuvolosa. Vedete, nuvolosità regolare interesserà a gran parte delle Adriatiche, il sud, ma a tratti anche le regioni settentrionali e in particolare il nord-ovest. Andiamo a vedere dunque le previsioni per la giornata di sabato, con ancora della variabilità, instabilità a tratti sulla Sardegna, la Sicilia, all'estremo sud, dove avremo qualche pioggia temporale sparso. Attenzione, nubi in aumento anche al nord-ovest, con qualche piovasco in primis sulla Liguria. Altrove invece schiarite prevalenti con temperature e lieve aumento. Aggiornamenti in tempo reale sull'app gratuita di Trebimeteo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.